Prima dell'ultima partita della stagione, siamo qua con il campione della Premier League Marco Pelarez Sarà probabilmente il miglior giocatore del torneo, come vedi la partita questa sera contro il Manchester? Beh, nonostante l'assenza di Alberto, guardando la classifica sulla carta è una partita semplice Speriamo di dare tutti il massimo, di vincere anche il miglior portiere, giocheremo anche per Fogliarico e dedicheremo ovviamente la partita ad Alberto Buon proseguimento della partita e soprattutto complimenti di nuovo per aver raggiunto il primato Grazie